Mister, commentiamo una sconfitta in una partita dove avresti meritato quantomeno il pareggio, probabilmente anche la vittoria. Partiamo dal presupposto che oggi non eravamo i soliti delle ultime partite, però questo ci sta nel calcio. Ci può stare una partita dove non sei brillantissimo, però credo che perdere una partita del genere sia qualcosa che fa male perché loro hanno fatto una punizione laterale e una punizione da 40 metri. Non sono mai arrivati, credo il mio portiere, non si è sporcato i guanti. Noi pur nella nostra non giornata migliore abbiamo avuto 4-5 palle e gol, abbiamo preso un palo. Purtroppo nel calcio capitano queste giornate, bisogna resettare subito perché il campionato è duro, è lungo e domenica abbiamo un'altra finale delle ultime 5 perché non sarà questa sconfitta sicuramente a toglierci dalla mente l'obiettivo della salvezza. Per quanto fatto vedere, soprattutto nel primo tempo ma anche nella ripresa, le assenze pesanti di Gava e soprattutto Polisena perché 16 gol non si regalano a nessuno, non si erano fatte sentire. Ma guarda, io è dall'inizio dell'anno che dico che cerco di far rendere al meglio quelli che ho. Sicuramente sono due giocatori importanti ma l'alibi non esiste in questa squadra, ci stanno altri che si allenano per giocare. Hanno giocato, hanno fatto la loro partita, si sono impegnati. Ripeto, meritavamo molto di più, ma questo è il calcio. Oggi la fortuna ci ha girato le spalle ma sicuramente dobbiamo andare domenica a riprenderci quello che abbiamo perso oggi perché diventa una partita per noi fondamentale. Al momento dell'espulsione cosa è successo? È successo che gli dicevo di far giocare invece lui stava parlando, gli ho detto invece di parlare con la panchina ma sono sfortunato io con quest'arbitro, l'ho incontrato tre volte e ho perso tre volte, sarà un caso, mi prendo io la colpa. Lui è bravo, io sono scarso. Queste sono tre punti importanti, avete capitalizzato una delle due occasioni che avete creato? Beh sì, sono tre punti che fanno comodo, che su un campo difficile, un campo molto difficile, sapevamo che non si poteva giocare palla a terra, allora abbiamo preparato la partita sulle seconde palle e abbiamo bloccato su un calcio d'angolo che è stato preparato durante la settimana con Tisone. Penso che questi tre punti sono importantissimi per tanti motivi, quindi sono contento della prestazione della squadra perché hanno giocato con il carattere, con la rabbia, come l'ho detto prima, è una battaglia, dobbiamo andare a dire qua, alla fine abbiamo sei battaglie, dobbiamo andare a giocarla a tutti quanti dopo. Alla fine del campionato si vedrà se raggiungiamo l'obiettivo di andare a fare il playoff e se no vediamo, pazienza. Però contento dei miei ragazzi, le faccio i complimenti. Che campionato sta vedendo in eccellenza? Un campionato un po' strano, perché le squadre conosco, perché per esempio anche oggi hanno pareggiato Giulianova e l'Aquila, l'Avezzano ha vinto la settimana scorsa, il recupero dell'Avezzano e l'Aquila ha pareggiato, noi siamo andati a vincere l'Avezzano, abbiamo pareggiato con Giulianova. Io penso che un campionato, diciamo, quelle tre davanti hanno preso la distanza, però per quello che ho visto ultimamente io penso che il Lanciano se la poteva giocare fino alla fine, ce la possiamo giocare, non arriveremo primo, però penso che nei primi quattro possiamo arrivarci.